Dopo la fine della storia d'amore con Fabio Ferrara Conosciuto nello studio di Uomini e Donne, Ludovic Cavalli non aveva fatto sapere più nulla sulle sue relazioni I due però, usciti allo scoperto recentemente, sono anche riusciti ad attirare a sé numerose critiche con la pubblicazione di alcune storie su Instagram, da molti considerate troppo spinte Passione alle stelle tra Ludovica e Federico. I due, da quando hanno ufficializzato la loro relazione, hanno iniziato a condividere tutti i loro momenti di intimità sui social Ad alzare decisamente la temperatura ci ha pensato un video in particolare pubblicato dall'Avalli, in cui si baciano appassionatamente e tirano fuori la lingua, che però non è stato per niente apprezzato dal popolo del web, anzi In molti infatti hanno accusato la coppia di essere troppo volgare. Fra tutti l'ex aspirante naufraga della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Dejanira Marzano che ha espresso tutto il proprio dissenso. Ludovic Cavalli, ma come mai tu ci vuoi voltare lo stomaco con queste storie pornografiche con il tuo fidanzato? Ma perché non vedi, se Rocco Siffredi non vi prende a tutti e due nella sua accademia di sesso? Di tutta risposta, Lavalli ha invitato tutti a prendersi un po' meno sul serio pubblicando una foto ironica tra le sue storie . . .